A settembre ripartiranno le attività Lunardini Skills con diverse novità. Innanzitutto Lunardini Skills diventerà una società sportiva del territorio dedicata esclusivamente al miglioramento tecnico individuale. I ragazzi si potranno così tesserare per la società e saranno tutelati da diversi punti di vista. Sicuramente la cosa che ci tengo a precisare è che questa società sportiva non sarà iscritta a campionati ma sarà iscritta ad un ente sportivo grazie al quale i ragazzi potranno essere tesserati e potranno svolgere attività parallelamente a quelle svolte nelle società e scuole calcio del territorio. A settembre ci saranno gli open day. Ogni ragazzo avrà la possibilità di effettuare un allenamento di prova gratuito del metodo Lunardini Skills nel quale noi dello staff potremo capire il livello di partenza e costruire sul ragazzo un percorso di apprendimento estremamente personalizzato volto a colmare le sue lacune tecniche e incrementare tutte le sue abilità. In ogni allenamento curiamo gli aspetti individuali del calcio di ogni singolo ragazzo quindi andiamo a lavorare sul controllo della palla, sul dominio, su tutte le abilità dell'uno contro uno, le finte, le sterzate, di modo che i ragazzi possano accrescere la loro autostima in maniera esponenziale, possano sentirsi più sicuri e possano tornare nelle loro società di appartenenza con un bagaglio tecnico maggiore. Il nostro scopo quindi è quello di supportare le scuole calcio del territorio e non di sovrapporci. Pertanto credo che questo lavoro sia un lavoro complementare a quello svolto dai ragazzi nelle loro società di appartenenza. Per chi lo desidera si possono effettuare allenamenti di tipo individuale o di coppia o in piccoli gruppi in modo da seguire al meglio ogni singolo atleta. Lo staff tecnico è stato interamente formato nel corso da me tenuto denominato Individual Coach dove ho insegnato ai nuovi corsisti il metodo Lunardini Skills, il metodo da maestro di tecnica. A settembre usciranno le nuove date di questo corso che è rivolto a tutti gli ex calciatori professionisti e dilettanti che vogliono intraprendere questo percorso professionale da maestro di tecnica. Dello staff fanno parte Andrea Mingucci, calciatore ancora in attività nel campionato d'eccellenza, Thomas Cancellieri, responsabile di una scuola calcio del territorio e già maestro di tecnica indipendente. Martina Maduzzi, calciatrice ancora in attività nel campionato di Serie C e Serie B la quale ci occuperà di tutte le ragazze e le bimbe che vorranno migliorare individualmente. Quest'estate è stato un grande successo Lunardini Skills in tutte le attività. Oltre 100 ragazze hanno partecipato sia al camp estivo sia al preritiro tecnico fisico per ragazzi selezionati ma anche lezioni individuali. Devo dire che tanti di loro sono migliorati notevolmente, alcuni sono passati in squadre professionistiche e tanti altri li abbiamo aiutati ad eccellere per quanto riguarda il loro livello. In questi anni l'attività Lunardini Skills è cresciuta tanto e ultimamente è anche supportata da diverse aziende in realtà del territorio che hanno intravisto in questo progetto margini di crescita e attività propositive per quanto riguarda i giovani calciatori. Quindi ringrazio fortemente tutti coloro che mi stanno sostenendo come Riviera Banca, Isochinetic Rimini e Zodiaco Fronte Mare. Vi aspetto a settembre per la vostra prova gratuita sul campo, saremo a Santa Giustina dal lunedì al venerdì mentre il sabato mattina ci troveremo nel campo di Bella Riva in via San Francesco a Rimini.